La partita fiorentina-pescara è stata rinviata a causa del maltempo. La decisione che era nell'aria già da ieri, viste le condizioni meteo, è stata presa questa mattina, anche a seguito del sopralluogo allo stadio di retico Cornacchia, che stamani si presentava così. Il GOS della questura di Pescara, Pescara Calcio e Amministrazione Comunale hanno ravvisato una particolare problematica di ordine pubblico legata al ghiaccio, che è stata decisiva, visto che il lavoro degli inservienti avrebbe potuto liberare il campo in vista della partita di domani. Della questione è stato investito il prefetto di Pescara. L'ordine pubblico va garantito e una disputa della gara a porte chiuse non avrebbe peraltro incontrato il gradimento degli sportivi. Così l'assessore comunale Diodati. Secondo noi è consigliabile non far disputare la partita, non tanto per problemi inerenti il terreno di gioco, perché il terreno di gioco ha retto bene anche all'impatto della neve, ha drenato bene, per cui lo stanno già ripulendo, ma quanto per problemi di sicurezza legati proprio al ghiaccio presente sugli spalti e sulle vie di accesso allo stadio. E siccome si prevede per stanotte una gelata molto importante, insomma, secondo noi non è consigliabile poter disputare la partita. Dunque, gara rinviata data da destinarsi e slitta dunque l'esordio dei nuovi innesti del calciomercato per i biancazzurri. Per il tecnico Oddo l'opportunità dunque di avere giorni in più a disposizione per lavorare con i nuovi. Prossima tappa, settimana prossima al San Paolo contro il Napoli per la prima di ritorno.